Il Paradiso, ipotesi nuove trame, Vittorio confessa a Marta di non averla mai dimenticata. È impossibile che nella prossima puntata del Paradisi delle Signore 8 di Rai 1, Vittorio Conti confesserà finalmente alla sua ex Marta di non averla mai dimenticata. Dopo la riconciliazione vissuta dai due protagonisti nell'episodio precedente, Conti vive un momento di grande crisi. Questa situazione potrebbe portare a rendersi conto che non è completamente innamorato di Matilde, poiché nutre ancora forti i sentimenti per la figlia dei Cavalieri dell'Ordine dei Guarnieri. Marta e Vittorio si baciano le anteprime della telenovela di Rai 1, in programma fino al 12 aprile. Mostrano che Marta e Vittorio continueranno i loro sforzi per annullare ufficialmente il loro matrimonio. I due trascorrono del tempo insieme e si abbandonano alla passione, che sfocia in un bacio appassionato dai risultati inaspettati. Dopo quanto accaduto, i due cercano effettivamente di fare chiarezza. Ma Vittorio non riuscirà a nascondere il grosso pasticcio come aveva già confessato all'amico Roberto Landi qualche giorno fa. Conti dubita quindi del suo rapporto con Matilde e si rende conto di non conoscere più i suoi sentimenti. Ipotesi, Vittorio confessa di non aver mai dimenticato Marta. A questo proposito non è da escludere che in futuro Vittorio possa trovare il coraggio di essere sincero con Marta e confessare la verità sui suoi sentimenti. Conti ha così confessato al giovane Guarnieri di non averla mai dimenticata e di non aver lasciato nulla delle cose belle vissute insieme durante la loro relazione. Questa dichiarazione d'amore potrebbe avere conseguenze indesiderate, poiché potrebbe convincere Marta a non tirarsi indietro, come aveva fatto in precedenza, e a lottare per salvare il suo matrimonio con Vittorio prima che finisca. Allo stesso tempo, però, questa situazione pone un problema a Matilde, che dovrà fare i conti con l'ennesimo colpo emotivo. Rifiuto finale. Matilde è stata picchiata da Tancredi. Matilde, infatti, è appena tornata dalla fine del suo matrimonio con Tancredi, conclusosi quando la donna scoprì l'inganno orchestrato dall'uomo. Tancredi è stato responsabile dell'incendio scoppiato in un mobilificio di proprietà dei genitori della donna. Questo fatto le fu nascosto per diversi anni fino al momento in cui lo stesso Conti venne a conoscenza dell'accaduto. Si prega di avvisare direttamente chi fosse interessato. Grazie a tutti.